Sebbene la sintomatologia covid nei bambini sia più lieve, anche i più piccoli possono essere colpiti da forme più importanti di malattia, con casi di long covid che però si risolvono solitamente in qualche mese. A parlarne al TG8 è la dottoressa Sabrina Di Pillo, responsabile del centro regionale di pneumologia e allergologia pediatrica dell'Università d'Annunzio di Chieti, a margine del primo congresso regionale della Società Italiana delle Malattie Respiratorie Infantili, che si è svolto ieri presso l'Aula Magna di Farmacia dell'Ateneo Tiatino. Long covid interessa circa il 30%, dall'1 al 30% dei bambini e persiste per circa tre mesi dopo l'infezione. Non si parla della MES-C, che è quella patologia multisistemica molto grave che interessa i bambini, ma è una percentuale piccolissima, in quanto i bambini sono stati risparmiati da questa endemia, nel senso che la sintomatologia è più lieve. E sicuramente il long covid causa dei sintomi che non interessano sempre le vie respiratorie, cioè non bisogna pensare che il covid dia una complicanza a livello pediatrico, a livello respiratorio e dare una persistenza della sintomatologia. Il long covid dà luogo a una sintomatologia caratterizzata da disturbi a scuola, disturbi della concentrazione, astenia, stanchezza, quindi una difficoltà poi di stare appunto a livello, nelle ore scolastiche, di concentrarsi. Mentre la patologia respiratoria, che è data da una tosse che può persistere anche per tre mesi, che però non è il broncospasmo, ma una tosse che persiste post-infettiva, che poi spontaneamente si risolve in poco tempo. Il dolore toracico che persiste in circa può essere presente in una percentuale piccolissima dell'1-3%, ma il concetto invece importante è quello di dire che l'asma deve essere ben controllata, perché se è ben controllata sotto una terapia idonea, allora non c'è problema di un peggioramento del covid, perché addirittura la terapia steroidea inalatoria ha una protezione nei confronti di questi bambini. Quindi se un bambino fa la terapia con lo steroide inalatorio, perché comunque fa una terapia di fondo, è protetto da un peggioramento o da una esacerbazione da covid. Se invece un bambino è asmatico, non è trattato, non è seguito, sicuramente il covid trova un bambino impreparato e quindi che ha un peggioramento clinico e ha una riesacerbazione. La scuola ormai si è riaperta, quindi si sono allargate le maglie anche della nostra socializzazione a scuola, visto che non si porta a scuola neanche più la mascherina. Consigli utili per i genitori e quindi anche per i bambini? Io quando vengono le mamme dico bisogna armare il bambino, ma in senso così simpatico. Sicuramente ci sono anche in questo congresso, abbiamo parlato anche di farmaci immunomodulanti che comunque possono aiutare, per esempio la vitamina D. Quasi tutti i bambini hanno una carenza di vitamina D che comunque può aiutare nella prevenzione. Oppure c'è un altro, l'epidotimod, che è appunto una molecola di sintosi che può agire a livello dei linfociti in modo tale da aumentare le difese. Sicuramente la vaccinazione anti-influenzale, la vaccinazione anti-covid, sono comunque importanti. Comunque sicuramente una terapia preventiva noi la facciamo fare sempre. Poi se il bambino è asmatico, c'è l'epidemia settembrina dell'asmatico, per cui il bambino che è affetto da asma cronico a settembre sicuramente ha una risacerbazione sia per i virus, sia per gli allergeni dell'acaro, gli allergeni perenni che riaumentano e quindi è logico che il bambino deve essere comunque protetto.